Ho appreso in questo momento di essere stato denunciato. Vi leggo l'anza che in questo momento circola in tutta Italia. Coronavirus, l'amorgese denuncia sindaco Messina. Parole gravemente offensive. Villipendio alla Repubblica. Sono stati segnalati all'autorità giudiziaria i comportamenti tenuti dal sindaco di Messina perché censurabili sotto il profilo della violazione dell'articolo 290 del codice penale. Villipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. La decisione in forma elviminale è stata assunta dal ministro dell'interno Luciala Lamorgese a seguito delle parole gravemente offensive e lesive dell'immagine per l'intera istituzione che le rappresentano, pronunciate pubblicamente e con toni minacciosi e volgari. Cosa dice l'articolo 290 del codice penale? Una pena abbastanza grave. Chiunque pubblicamente villipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il governo, la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da Euro 1000 a Euro 5000. Quindi vi chiedo di fare una colletta. Signor Ministro, io la denuncia me la prendo perché mi darà modo di difendermi nelle sede opportune, in quanto voi avete consentito di far passare dallo stretto di Messina mezzi senza le prescritte autorizzazioni e controlli. Le prove ci sono perché il 23 marzo, quando io ho occupato lo stretto di Messina, abbiamo verificato e denunciato, quindi le forze dell'ordine pubblico, attenzione, hanno denunciato 10 persone perché erano su tre macchine che non erano in regola, dopo che erano stati fatti presunti controlli a Villa San Giovanni prima dell'imbarco. Non solo, signor Ministro, le ho chiesto di avere una formale motivazione e spiegazione perché la Renault 4, che è partita dalla Francia e è passata indisturbata per tutto l'ostipale e il 22 marzo ha attraversato lo stretto di Messina ed erano artisti di strada che ovviamente non sono venuti per uno stato di necessità in Sicilia, anzi raggiungo di più, che scorazzano per la Sicilia mentre noi siamo chiusi in casa. E lei, signor Ministro, ancora un'altra spiegazione non l'ha data, io l'ho definita questo depistaggio di Stato e mi sono presso la responsabilità. Non solo, le aggiungo, che tutto quello che era stato messo in campo dal Governo di cui lei fa parte è stato costantemente violato. Avremo modo di parlarne in tribunale, signor Ministro. Tenga conto che se questo è un avvertimento per il sottoscritto, guardi, ne prendo atto, ma vado avanti, non mi fermo perché non è pensabile che chi sta sopra le nostre teste possa continuare a dileggiare i comuni, i sindaci e la popolazione. E non solo, ma poi anche di fronte all'alta vergogna di Stato che si è riscontrata riguardo al comunicato stampa che lei ha fatto, il 23 marzo sera, nel quale ha dichiarato il falso e mi assumo la responsabilità anche di questo. Avete dichiarato il 23 marzo sera che era tutto apposto il trasporto sullo stretto di Messina. Ma come? Noi abbiamo denunciato dieci persone? Non solo. Se già dalla mattina, dalle sei di mattina del 23 marzo c'erano tutte queste automobili lì a Villa San Giovanni che erano state bloccate perché nel frattempo era cambiata la normativa e che ha creato quel caos che abbiamo sbloccato in questo momento. Quindi il vostro comunicato stampa del 23 sera ha anche omesso di citare che c'erano sequestrate delle persone a Villa San Giovanni. Bene signor Ministro, lei continua a fare il suo mestiere che io mi faccio il mio e ci vediamo in tribunale. Grazie.